Ciao, sono venuta a prendere le chiavi di questo appartamento e wow, l'ho trovato perfetto. Questa è una cliente che io adoro perché lei è un architetto, è bravissima e cura veramente i dettagli come piace a me. Mi piace da morire, poi poter portare anche i clienti a vedere queste case quando sono così curate, nei particolari, un sacco di dettagli, guardate un po'. La casa è bellissima perché è su due livelli, bellissimo, tutta la zona giorno sta qua sotto, si affaccia su una corte, adesso vi faccio vedere un attimo, stupenda, oggi non è una gran bella giornata ma da queste vetrate in realtà entra un sacco di luce. E poi là dietro quella tenda, vabbè non sto a farvi vedere, c'è una bella lavanderia comodissima e sopra invece salendo la scala si trova la zona notte che però non è insomma il solito sul pacchetto, è proprio una vera e propria camera da letto organizzata con tutto. E poi la cosa bella è che hai velux per cui bellissimo, si vede il cielo dal letto riuscite, si riesce a vedere il cielo e qua di nuovo la bellissima vetrata sempre piena di luce che dà sulla nostra corte. Per finire, ovviamente dalla camera da letto, si va nel bagno, lo vedete qua, anche questo, perfetto. Se non vi do l'ora di cominciare a lavorarci perché è veramente bella e vabbè insomma fra poco vedrete le foto, l'annuncio e tutto quanto. Se volete delle informazioni su questa casa, che è una casa in affitto, chiamateci oppure scriveteci, ok? Ciao!